Eccoci con il nostro appuntamento con Giovanni Matera per parlare di marketing, dell'importanza della formazione. Matera è un imprenditore, Giovanni Matera è un imprenditore e titolare appunto della Matera Arredamenti da lui creata e oggi vogliamo riprendere un po' certe situazioni riguardanti la scuola. In varie puntate attraverso questo, quell'altro capitolo della cassetta degli attrezzi abbiamo parlato di certi limiti, di certi detici della scuola, ma oggi approfondiremo l'argomento in maniera più uniforme e mirata. Leggiamo infatti nella cassetta degli attrezzi l'attuale scuola insegna il sapere, ma non il saper fare. I nostri ragazzi devono stare all'interno di codici uguali per tutti. A scuola lo chiamano il programma e poi finiranno con il farli nella vita. Nella vita. Vengono programmati in modo che conoscano delle cose piuttosto che altre, un concetto pensato per produrre impiegati, quindi quasi creati con lo stampino. Un ragazzo è un genietto in qualcosa? La scuola gli risponde che però ha preso 5 in storia dell'arte. Forma gente che si abitua a stare seduta davanti a un capo, non ti prepara alla vita, ma a un lavoro preciso in cui qualcuno ti dice cosa devi fare. Uscire da questi schemi non è semplice, ma è la nostra vita. Ecco tutti i limiti della scuola. Devo dire che è un'analisi dura e impietosa, ma veritiera. È dura e impietosa soprattutto nei confronti dei nostri ragazzi che sono costretti poi a fare la valigia, perché non abituati nella scuola non viene proprio distillato l'idea imprenditoriale. Voglio dire, io posso anche insegnare solo nozioni, ma perché non dare una chance? Perché non dare anche questa possibilità al ragazzo che magari ha quelle qualità? Perché non esiste quasi mai un professore che dice, sai Mario, visto che tu hai queste qualità, perché non provi a fare questo? Ma non succede, nozionismo e basta. Praticamente noi prepariamo i nostri ragazzi soltanto per i concorsi, li prepariamo per partecipare ai concorsi. L'obiettivo è il posto fisso. L'obiettivo è il posto fisso. E quindi una volta che hai raggiunto il posto fisso è inutile aggiornarsi la formazione a che serve, tanto io ho il posto fisso, mi sposo, faccio figli. Complice è anche la famiglia, tanto è vero che è una frase che io non condivido, vai, finisci, prendi questo pezzo di carta, tanto ho parlato io con tale politico, ho parlato con tale partito, ti sistemeremo in qualche modo. Quindi il ragazzo… Ci serve il pezzo di carta. Poi magari queste promesse non vengono manco mantenute e questo ragazzo è costretto poi a fare la valice e andare all'estero perché le aziende sono strutturate in un modo diverso dove magari lo possono accogliere. Ma non va a fare l'imprenditore, va a fare comunque il dipendente, quello che avrebbe potuto fare in Italia. Diciamo che spesso si ha, ecco lì ha citato questa espressione, vengono programmati in modo che conoscano delle cose piuttosto che altre, un concetto pensato per produrre impiegati e quindi li si trasforma in yes men. Difatti noi diamo solo nozionismo, ma concetti imprenditoriali non li riviamo e non è detto, sai quando dico questo la risposta che mi viene data è, noi dobbiamo essere tutti imprenditori, no tutti imprenditori, almeno che ne salviamo 3 o 4 su 100, non tutti imprenditori, perché poi non tutti devono fare le imprenditori, però sarebbe bello inserire il discorso imprenditoriale in termine delle scuole, perché studiare da imprenditori, ma bastava pure un'ora la settimana, pure un'ora la settimana aiuta a far crescere il ragazzo, a essere più intraprendente, ad acquisire quei concetti a rischio, quei concetti a diritto all'errore, che si può sbagliare nella vita, diventa anche più indipendente. Ecco, è molto significativo quello che lei scrive e analizzando il discorso della scuola appunto, la scuola dovrebbe favorire la propensione all'imprenditoria, almeno su quei ragazzi che hanno una predisposizione e passione in qualcosa, anziché spegnerli, perché non in linea con i programmi scolastici. L'ideale sarebbe inserire almeno, appunto sto leggendo il tratto del capitolo, l'ideale sarebbe inserire almeno un'ora di insegnamento obbligatorio per settimana, non perché tutti dobbiamo fare gli imprenditori, ma instillare quei concetti imprenditoriali come l'intraprendenza, sviluppo della creatività, cultura del rischio e il diritto all'errore, potrebbero tornare utile anche per chi vorrà fare il dipendente, ma con una marcia in più. In buona sostanza abbiamo una scuola troppo stereotipata, sembra quasi che gli studenti, gli allievi diplomati o laureati sembrano tanti biscotti uguali fatti con lo stampino. Non voglio essere maligno, però sembrano essere fatti che devono obbedire a qualcuno o a qualcosa, a un sistema. Perché noi viviamo, diciamolo le cose come stanno, è come se noi vivessimo in un labirinto dove ci azzuffiamo, ci scorniamo, litighiamo tra di noi come delle tifoserie, ma al di sopra di questo labirinto comunque ci sono purtroppo dei gruppi, delle persone, delle cose che decidono premi e punizione e che se noi inseriamo l'idea imprenditoriale all'interno delle scuole si diventa anche più indipendenti come persone, ma questo forse al sistema non piacerebbe.